Ma io ritengo che la vita in generale sia una commedia, perché in realtà la vita porta al suo interno divertimento, risate, ma anche drammi, emozioni, malinconie, eccetera, eccetera. Quindi ritengo che la commedia sia il genere cinematografico che sia, quando vedo commedia che mi piacciono, come mi auguro questa, mi piacciono perché riconosco una verità, la ricerca della verità. Questo è quello che ho cercato di fare con questo film, avevo voglia di fare un viaggio che ho sempre immaginato per vari motivi nella vita e voglio ringraziare la IEF, Federica, Vision, Fulvio, tutti quanti, meccanico, per avermi dato questa possibilità, perché veramente mi avete dato la possibilità di fare un viaggio che non avevo fatto e che finalmente ho fatto. Questa non era mia famiglia, ma diciamo molte cose, molti umori, molti rapporti tra le persone, per forza di cose ricordano alcuni dei passaggi della mia infanzia, della mia gioventù, pur essendo una storia assolutamente inventata e voglio ringraziare anche Walter Lupo e Massimiliano Bruno che hanno scritto con me la storia. La ricerca del padre è stata molto semplice, avevo bisogno di un attore che conoscesse l'argomento in qualche maniera e soprattutto era preferibile avere un uomo di grandissimo successo, vero nella vita, come il grande successo di da sempre il GGA, il tutto quello che ha fatto. E quindi chi meglio di un attore straordinario e soprattutto di un profondo conoscitore dei rapporti personali, interpersonali, della mia famiglia, che poi assomiglia un po' alla sua, ma che assomiglia, mi auguro a molte, delle famiglie e delle persone che verranno a vedere il film. Grazie.